Rino Gaetano è uscito fuori con la canzone, questa Gianna, molto carini quei ragazzi che facevano le mosse così. A te che ti piace? No, mi piace, figurati, se no non ti avremmo neppure invitato, tra l'altro. Senti, però... Non ho pagato, no, no. Eh? No, non ho pagato. No, credo di no, poi vediamo. Senti, invece volevo dire, questo testo della tua canzone è un testo diverso, diciamo, è un testo che forse non vuol dire niente, però ha funzionato... Come no, va bene, sì, è un gioco non senza di distruzione del testo, cioè la distruzione del testo la faceva Mayagoschi, Ionesco... Sì, io eviterei queste citazioni così imponenti forse, perché Ionesco, Mayagoschi... Allora, lasciamolo un po' sull'ambito del tartufo, l'ufo, in fondo il tartufo è un ufo, peggio dell'ufo perché non si trova mai. Sì, perché fa rima, l'hai messo tartufo perché faceva rima con ufo, o viceversa. No, perché non si trova, è un ufo del resto. Senti, no, io volevo dire, secondo te questo nuovo filone, se sarà un filone, cioè della canzone non senza, la canzone che non vuol dire niente, potrà soppiantare i vari filoni fino adesso? No, assolutamente no, perché è un altro spicchio di pubblico, un altro spicchio di modo di fare le canzoni, un'altra fetta della torta, quindi credo che non invado nessuno. No, no, però la canzone, diciamo, politica, si chiamava I cantautori politici, forse sono un po' in ribasso, probabilmente, non lo so, io... Ma forse perché la politica che è in ribasso. Questo è duro dire, non fermare una cosa del genere, poi c'è stata la... Cioè, scusa, ma alla fine il non-sensi, il sarcasmo dei tuoi testi, sembrano quasi un alibi, nel senso che tu resti nell'ambiguità, sembra che tu non vai a prendere posizione. Ah, era una domanda? Diciamo una riflessione dialettica. Ma guarda, eh... Cioè, io non so mettere in musica le lotte studentesche o il movimento operaio, non perché non ci credo o non ne sia dentro, è solo che non ne sono capace. Cioè, non è nelle mie corde, a me piace giocare sulle parole, sui luoghi comuni, mi esprimo come la mia indole mi suggerisce, quello che mi interessa di più è il sarcasmo, cioè io non ci riesco a prendermi sul serio. Ma così non ti poni obiettivi, cioè, scrivi senza uno scopo, dov'è la rottura col sistema? Ma che vuol dire sistema? Tu lo sai cos'è il sistema, non ci girei intorno, ti ha fatto una domanda, rispondi. Se è quello che penso io, il sistema, provo a prenderlo in giro. Oh, io sono d'accordo con Rino, l'ironia è l'arma più efficace che noi abbiamo. Sarà una risata che vi seppellirà tutto.